ciao ragazzi sono cento per cento brumotti mi faccio portare anche il microfono dunque sono un vip sono qui all'acqua fan di riccione sta iniziando la densa allora sarò rapidissimo sono stato qui la mia prima volta che vengo in questo posto pieno di energia mi sono gasato fatto un front flip che è uno dei numeri che mi dà l'unicità nel mondo perché lo faccio con una bici da corsa e adesso lo butterò in rete speriamo che diventa viral e porti un po di pubblicità questo posto fantastico sono contento di essere al riccione perché è come il mio capo ricci o ne ricci numero uno che il mio capo di striscia notizie saluto qua in veste di ambassador di livigno è il luogo dove vado sempre allenarmi in quota dunque questo fantastico gemellaggio mare montagna crea la fuerza e allora godiamoci quest'estate fantastica da cento per cento brumotti a bombazza ciao voglio sentire un boato per brumotti brumotti vai a popà ciao brumotti ecco subito brumo sta attento brumo occio va bene che lui ha fatto la qualsiasi però questo è vero però comunque lì è molto scivoloso quindi io non so come fa questo è bene fate un applauso alua benia che semmu ciao ragazzi dai la rispolveriamo un po' è a bombazza ciao allora niente sono grande acqua grande acqua comunque fa la cacca chiunque noi siamo qua è un gioco possiamo divertirci ma l'importante è vincere e non partecipare ok questa è la mia teoria siamo d'accordo allora gasatemi che magari farò qualcosa da lassù non posso cioè vittorio dovresti proporci una cosa che è veramente spettacolare qua sulla console riesci a salire si sbagli e dice brumotti in console lui sale mamma mia cioè ragazzi è un fenomeno però brumotti in console lui sale mamma mia cioè ragazzi è un fenomeno però ma io ho un sogno un sogno così ho visto che veramente sta fermo e siccome sta fermo io vorrei il cowboy sdraiato il cowboy da domani ci sarà l'indiano da domani ci sarà l'indiano non vale non vale aia la lampa torna indietro arriva lì in punta e poi torna indietro probabilmente cioè tu dici che si la sta posizionando con molta cura aia adesso è più convinto parte più convinto brumotti in acqua fan si è lanciato con con una mossa pazzesca vi ricordi come si chiama sta cosa? flip? front flip front flip cioè praticamente una capriola per entrare nell'acqua fate un applauso a brumo urla oh l'altra mano smingete al soffitto vai 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 ma non possiamo camare eh io non è camare no non è nessuno secondo me